Il cross è di Savini a cercare Calaio, Calaio è in area di rigore, si gira col sinistro ed è un gran gol quello di Emanuele Calaio Il Napoli è in vantaggio al 43esimo e il suo quarto gol in campionato Grande prodezza di Calaio che riceve questo cross bellissimo, stop la palla di petto